Pier Paolo Pasolini, il PCI ai giovani, 1968 Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri, vengono da periferie, contadine urbane che siano, e poi guardateli come li vestono, come pagliacci, con quella stoffa ruvida che puzza di rancio, fureria e popolo. Peggio di tutti, naturalmente, è lo stato psicologico cui sono ridotti, per una quarantina di mille lire al mese, senza più sorriso, senza più amicizia col mondo, separati, esclusi, in un'esclusione che non ha eguali, umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti, l'essere odiati fa odiare, hanno vent'anni, la vostra età, cari e care, I ragazzi poliziotti che voi, per sacro teppismo, di eletta tradizione risorgimentale, di figli di papà, avete bastonato, appartengono all'altra classe sociale. a Valle Giulia ieri si è così avuto un frammento di lotta di classe e voi, amici, benché dalla parte della ragione eravate i ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Bella vittoria, dunque, la vostra. In questi casi ai poliziotti si danno i fiori amici.